A soluzione per non aver commesso il fatto, il romeno Ilie Bogdanel Munteanu non ha mai colpito Tindaro Faranda, determinandone la morte, così come aveva chiesto anche in primo grado il suo difensore, l'avvocato Alessandro Pruiti. Questo è il verdetto della Corte d'Assiste d'Appello di Messina, presieduta da Carmelo Blatti, che ha assolto l'imputato scagionandolo dall'accusa di omicidio preterintenzionale e soprattutto azzerando la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Patti Andrea Laspada a cinque anni di reclusione. I giudici di appello hanno rifocalizzato l'attenzione sui fatti accaduti nella notte del 15 maggio 2022, quando a seguito di una rissa aveva perso la vita un abitante del luogo, Tindaro Faranda. Era stato immediatamente trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Barone Romeo di Patti e successivamente, viste le sue gravi condizioni, al policlinico di Messina, dove poi deceduto qualche giorno dopo. Il giudice, dopo il rito abbreviato con sentenza del 7 dicembre dello scorso anno, aveva condannato a cinque anni di reclusione per omicidio preterintenzionale Iliel Bogdanel Monteano, mentre aveva assolto con formula piena Cristan Iuculano Mamao, imputato solo per il reato di rissa, dal quale era stato assolto pure Monteano, difeso dall'avvocato Salvatore Cipriano. L'avvocato Pruiti, difensore di Monteano, preannunciando l'appello già dopo il verdetto di condanna emesso dal giudice di primo grado, aveva sostenuto che l'imputato non avesse commesso il fatto e che in subordine si fosse trattato di una circostanza diversa da quella contestata dall'accusa, e cioè l'eccesso colposo di legittima difesa. Questo ha ribadito davanti alla Corte d'Assisa d'Appello di Messina. Il procuratore generale Giuseppe Lombardo aveva richiesto la conferma della pena emessa dal Tribunale di Patti. I giudici di secondo grado sono stati di diverso avviso ed in riforma della sentenza emessa il 7 dicembre 2023 hanno assolto l'imputato da ogni accusa con formula piena, cioè non aver commesso il fatto.